Rete, rete per la Virtus Castel Trentano a rete Nicola Perrucci, il numero 11, 4 a 1, 4 a 1 per la squadra locale. Rettifico, ha segnato Mata, Teddy Mata ha realizzato la prima rete a nostro favore, però siamo perdendo 4 a 1, il quarto gol è stato fatto al primo minuto della ripresa.